Ho notato che io ero nel presente al batter l'aperitivo che avevo organizzato. Mi sarebbe piaciuto direttore, ma dovevo lavorare. Tutti dovevamo lavorare, eppure abbiamo trovato il tempo per andare. Sì direttore, ma lei non deve timbrare il cartellino, io invece non posso assentarmi dall'ufficio. A parte il sottoscritto, tutti gli altri devono sottosterare queste formalità. Tuttavia si sono presentati, è così che vanno le cose. Mi scusi direttore, ma io non credo che questa mia mancanza sia così grave da meritare un rimprovero. Il tuo comportamento è stato gravissimo, per questo a vedere le percussioni, sarei licenziata. Licenziata? Ma lei non lo può fare. E invece sì, proprio qualche minuto fa ho mandato la tua lettera di licenziamento all'ufficio preposto. Io scriverò al ministro per informarla della grave ingiustizia che sto stupendo. Egregio, signor ministro. Le scrivo questa lettera Al fine di informarla Della grave ingiustizia di cui sono stata vittima. Essere licenziata per il semplice fatto di non essermi presentata al bar. Dopo averti imbrato il cartellino, mi lascia alquanto sgomento. Confido nel suo intervento per chi è arrivato il momento di dire basta. Pronto? Ciao, sono Valentina. Ti disturbo? Assolutamente. Quando a me la ministra può disturbarmi? Ti volevo comunicare che ho ricevuto una lettera da parte di Francesca, una tua dipendente. Già, già, mi hanno detto che sarebbe rivolta la mia superiore. Mi chiede di porre fine a tutto questo. Ma vi sembra che sia arrivato il momento di dire basta? Sì! No, 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 no.